Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale Oggi vi faremo vedere una sincro challenge Di cosa si tratta Sofì? Valentina ci dirà tre elementi Da fare Tre elementi da fare E noi a coppie li faremo in sintonia Ok le coppie sono Chiara con Chiara Chiara e Chiara una coppia molto chiara Elena con Catalina E Sofì e Maria 30 secondi da adesso quando dico gara vi fermate Stop tutte sedute Ciò che fate è fatto La magari Allora coppia numero uno Chiara e Chiara Preparatevi In che verso lo fate? In là? Clelia guarda anche tu Bisogna dire chi è più in sincronia Pronte? Chiara e Chiara 3 2 1 Via Bravissime però Molto bene Maria e Sofia Seconda coppia Seconda coppia 2 1 Via Peccato per l'arrivo della Sofì Però bravissime Cata e Elena 3 2 Scusa Fermi Ho dato il via a tutte Lo do anche a voi 3 2 1 Via Direi loro eh Un punto per Catalina e Elena Peccato Siete state tutte e tre molto brave 3 2 1 Tutte sedute Inizia questa volta Sofia e Maria Pronte? Fermeli 3 2 1 Via Brave Mica male Molto bene Cata e Elena Beh 3 2 1 Via Sì Chiara 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 Chiarina parti Chiara 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 Anzi Parti un po' più là Pronte? 3 2 1 Via Punto Sofia E Maria 1 E 1 30 Secondi Per provarlo 5 4 3 2 1 Sedute Sedute Pronte Pronte? 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 Stavolta Catalina con Elena Da che parte lo fate? Pronte? Ditemi ci siete? 3 2 1 Via Bravissime Chiara Chiara Via Dai Chiarina È difficile andare in sincronia Pensateci perché il prossimo lo pensate voi di elemento Dopo ve lo dico Concentrati 3 2 1 Via Bravissime L'avete fatto perfetto Cosa ti lamenti? Mary e Sophie Pronte? 3 2 1 Via Allora io sono un po' indecisa tra Catalina e Elena e Chiara e Chiara Però darei Catalina e Elena dici? Non lo so Sono state tutte e due belle Sono indecisa No no rifarlo no Perché la Clelia dice Catalina e Elena Per me sono state più uguali Chiara e Chiara Quindi Accetti tu Chiara e Chiara Adesso ogni coppia Pensateci bene Pensa ad una sequenza E la propone alle altre Via Catalina ed Elena hanno il primo elemento che dovrete fare tutte Iniziate voi due Sì Ma con il nostro Sì Sì Flick cos'acco? 3 Guarda Clelia 3 2 1 Via Ok Seconda coppia Chiara Chiara Flick unito cos'acco eh 3 3 Guarda qual'è 2 3 2 3 1 Via Ok no Vai Questo è più difficile perché non hanno le prove Vai Maria Sofia Vai Maria Sofia 3 2 1 Via Direi Elena e Catalina hanno scelto bene perché il punto va a loro Concentrate Pronta? 3 2 1 Via Via Maria Sofia Ruota rondata La scelta è giambè Ruota rondata e giambè Ruota rondata e giambè La scelta è difficile eh Vediamo Elena e Kata 3 2 1 Via Ruota rondata Sì Direi Elena e Kata Punto 3 2 1 Via Ruota Flick unito Sì Son Via Chiara Chiara Ruota Flick unito Sì Son Via Chiara Flick unito Sì Son Via Via 3 2 1 Via Via Ruota Flick unito Sì Son Provate Flick unito 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 Grazie a tutti